Oroscopo del giorno, giovedì 27 agosto 2020 Ariete Amore, questa sarà una giornata entusiasmante e positiva. Nonostante questo, è probabile che deciderete di agire con calma, senza fretta. Vale pure per i sentimenti e per le relazioni di coppie, ma non ci sarà niente di sbagliato. Lavoro, è possibile che qualcosa sia cambiato o che cambierà molto presto. Toro, amore, in questo giovedì vi piacerà guardare oltre e vi verrà facile immaginare il futuro con il partner. Finalmente vi sentirete davvero a vostro agio anche nel rapporto d'amore. Sarà una giornata abbastanza serena per le emozioni. Lavoro, la voglia di sognare si farà sentire pure a livello professionale. In fondo è giusto non abbandonare i propri desideri. Gemelli, amore, le emozioni potrebbero essere un po' diverse tra di loro, ma entro la fine della giornata tutto dovrebbe andare per il meglio. I dubbi e le preoccupazioni lasceranno posto ai sentimenti e all'ottimismo. Avrete fiducia nel partner. Lavoro, i sogni sembrano spesso molto lontani dalla realtà, eppure non smetterete di immaginare e sperare. Cancro, amore, oggi sarete bravi a comunicare, ma non soltanto quello che non vi sta bene. Riuscirete ad esprimervi, a mostrare le emozioni, e questo gioverà il rapporto con il partner e la vostra complicità. Sarà una giornata soddisfacente in fatto di amore. Lavoro, è il momento di pensare ai sogni nel cassetto. Forse è arrivata l'ora di mettere tutto in pratica. Leone, amore, questa sarà una giornata ricca di passione, per cui se avete una persona speciale al vostro fianco potrete approfittarne. Chi invece ha chiuso da poco una relazione, riuscirà finalmente a guardare avanti con più consapevolezza. Lavoro, potrebbe essere un giovedì particolarmente interessante. Occhi aperti alle nuove opportunità. Vergine, amore, è possibile che abbiate la testa piena di dubbi e pensieri. Nonostante ciò, riuscirete a gestire bene tutte queste preoccupazioni, e potrete vivere la giornata con più leggerezza. Presto la complicità sarà più forte. Lavoro, oggi sarete più ottimisti del solito, ma sul posto di lavoro non ci saranno ancora grosse novità. Bilancia, amore, in questo giovedì sentirete la necessità di capirne di più rispetto al rapporto di coppia, rispetto a quello che pensa e prova il partner. Sarà molto semplice capirsi, essere complici, mostrare i sentimenti e discutere in armonia. Lavoro, la comunicazione sarà favorita anche sul fronte professionale. Bene quindi le presentazioni. Scolpione, amore, forse alla vostra dolce metà vanno bene certe questioni, certe situazioni. Voi però sarete più riflessivi e avrete bisogno di pensare un po' di più. È in questo modo che comprenderete realmente emozioni e desideri. Lavoro, è probabile che vi metterete alla prova per capire quali sono i vostri veri limiti e se ci sono. Sagittario, amore, in questa giornata vi renderete conto di alcune cose, sentimenti inclusi. Probabilmente è il caso di agire e pensare con calma, senza troppa fretta, spesso inutile. Potrebbe pure rivelarsi una giornata inaspettatamente speciale. Lavoro, le energie non mancheranno di certo, così come le idee e le intuizioni in vista del prossimo futuro. Capricorno, amore, oggi vi sentirete più leggeri, con qualche voglia di cambiamento e aria fresca. Occhio quindi se non state attraversando un buon periodo con il partner. Magari è arrivato il momento giusto per fare chiarezza anche con se stessi. Lavoro, dovrete fare attenzione al vostro atteggiamento un po' diverso dal solito. Acquario, amore, durante questo giovedì avrete una grande voglia di godervi le emozioni in piena libertà e serenità. Sarete propositivi, ricchi di energie e spirito ottimista. Praticamente nulla potrebbe andare storto in questa giornata. Lavoro, vorreste sentirvi i protagonisti, vorreste ricevere grandi soddisfazioni. La forza di oggi vi aiuterà. Pesci, amore, questa sarà una giornata allegra e tranquilla, perfetta per passare del tempo con la propria dolce metà. Avrete voglia di fare qualcosa di diverso e speciale. Magari potreste organizzare un giovedì interessante con il partner. Lavoro, le intuizioni di oggi saranno valide e perfettamente al passo con la realtà. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicchi. Clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Timeless In Spain